Vi faccio vedere in 60 secondi cosa porto con me per i bivacchi invernali. Un pacchetto di fastoletti, un termometro portatile, il mio iPhone, occhiali, un burro cacao, una borraccia Nalgene, ghiette Simon, un paio di guanti forglass, un segaccio per fare legna, sacchetti per la spazzatura, ciabatte super stilose, un seatpad, un guscio North Face, piumino zdaio, una berretta di lana, un kit dell'igiene primo soccorso con varie cose come uno spastolino, tappi per le orecchie, gel igienizzante, medicine, poi un jet boil, una cartuccia del gas, una sacca per portare il cibo dove tengo, un coltello, un mini tagliere, una soft flask, un cucchiaio in titanio, un bicchiere pieghevole, una mini bic e la faschietta per la grappa che è fondamentale. Nella sacca dell'elettronica invece una frontalina pezzel, batterie per la fotocamera, un drone, cavi di ricarica e powerbank, poi una bandana, fleece jipax, calze pesanti di ricambio, una maglia in merinos decathlon, un paio di pantaloni in paio della decathlon, un materassino thermarest, un quill della cumulus 450, lo zaino e un hmg windrider, carponi, bastoncini con corona per la neve e addosso tengo un berretto, una maglia in merinos della decathlon, i pantaloni del trekking della decathlon e le calze dell'oxigo e in caso ovviamente le chaspore, base weight 7 kg.